Un devastante terremoto si è verificato alle mezzanotte 54 circa nella costa occidentale del Peloponneso in Grecia a 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. Il suo nazionale di vulcanologia avrebbe rilevato una magnitudo equiparabile a circa 6.8 gradi a 10 chilometri di profondità. La scossa è stata devastante forte avvertita anche nella parte meridionale quindi sud del paese e soprattutto nella Sicilia orientale, in Puglia e in Calabria. Segnarazioni pensate che sarebbero arrivate addirittura da Napoli, città capoluogo della regione Campania. La scossa è stata avvertita in maniera piuttosto incipiente fino ad Atene capitale della Grecia a 300 chilometri di distanza il sud Italia, Malta ed anche però in Albania. I danni più importanti è registrata il Zante nel maggior porto dell'isola che resta comunque in funzione. La fornitura di energia elettrica quindi sarebbe stata interrotta. Vi ringrazio per l'ascolto. La paura dunque è fatta avanti in regioni Calabria, Sicilia e Puglia. Forti raffiche di ondate dopo l'allerta al tsunami che si sarebbe registrata ma che poi sarebbe rientrata. Un salutone grazie al prossimo video da un narratore italiano.